Siamo oggi al final meeting organizzato da Urbact, la Commissione europea, grazie ai finanziamenti di Urbact, siamo al terzo progetto di Urbact, ormai abbiamo una consuetudine di lavoro, il Comune di Napoli è tempo che porta avanti anche come città capofila una serie di iniziative e di progetti, di progettazioni legate proprio ai finanziamenti previsti dal programma europeo insieme con associazioni, università, enti di ricerca, collettività. E' ospitata nella sala del capitolo del complesso di San Domenico Maggiore la conferenza finale del progetto Second Chance sviluppato nell'ambito del programma di cooperazione territoriale Urbact 3 che ha visto Napoli capofila di 11 città europee al lavoro sulla riqualificazione e il riuso di grandi immobili abbandonati. A tal fine sono state elaborate strategie di sviluppo e rivitalizzazione che per la città di Napoli hanno interessato il complesso della Santissima Trinità delle Monache, un sito monumentale, meglio noto come ex ospedale militare, che si trova tra i quartieri spagnoli e Montesanto. Non è soltanto un lavoro astratto teorico ma dove anche grazie a un'azione materiale delle collettività si è iniziata a riqualificare anche fisicamente questo luogo. E vengono oggi presentati progetti e visioni di città, ipotesi di riqualificazione che frattanto hanno dato già vita a progetti di trasformazione e di riqualificazione anche dei quartieri spagnoli. Alla rifunzionalizzazione del complesso hanno partecipato con manifestazione di interesse più di 40 soggetti tra associazioni, università e privati cittadini e sono oltre 200 quelli che hanno contribuito al riutilizzo dei luoghi con interventi temporanei. Significa risorse per il territorio, un rapporto tra spazio e persona, rigenerazione urbana, recupero di spazi abbandonati o comunque non ristrutturati come il luogo dell'ex ospedale militare. Quindi quello è uno dei luoghi interessati da questo progetto e Napoli viene considerata capofila proprio perché è un luogo in cui si è sperimentato con successo la partecipazione degli abitanti al recupero degli spazi degradati della nostra città. L'Unione Europea guarda con favore il rilancio dell'Europa in questo modo, in un rapporto tra bellezza dei territori, recupero dei territori e partecipazione della gente. La conferenza finale del progetto è stata un'importante occasione di confronto e scambio di esperienze tra le diverse città europee. Di recente la Commissione Europea ha anche premiato la città di Napoli che è capofila in questo progetto con un ulteriore ancora finanziamento che riguarda proprio il riuso dei beni sottutilizzati, abbandonati e dismessi e soprattutto gli usi civici e il modo attraverso cui la città di Napoli interpreta i beni comuni. Grazie.